Ciao canaglie, come state? Spero tutto bene. Non ci siamo visti in pausa pranzo, ma perché vi ho pubblicato questa mattina le pagelle molto molto corte, molto molto brevi, perché sapete che quando ci sono questi momenti di rabbia, quando vedo che la Juventus non ci mette tutto quello che può metterci, le pagelle diventano un po' il momento sfogo senza volermi sfogare, senza voler alzare la voce, sono una sorta di protesta silenziosa. Piccola informazione di servizio, domani ci vedremo due volte, alle 19.15 ci sarà la conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, quindi ci vediamo in serata per quella che sarà appunto il commento solito, canonico, alle conferenze stampa della vigilia. Però alle ore 14, domani ci vediamo per almeno due ore di diretta, uno speciale 10 anni di YouTube, perché domani il canale compierà 10 anni, è il momento giusto per iscrivervi a questo canale, per far parte ufficialmente della community prima della live di domani. Domani ci saranno tanti ospiti, sarà una diretta Q&A, questa è la base, poi a seconda di quelli che entreranno, gli ospiti che entreranno, ci sarà un po' di chiacchiera, ci saranno tanti aneddoti, insomma. Tante belle cose che domani cercheremo di vivere insieme per festeggiare un traguardo importante, per festeggiare anche la qualificazione della Champions League, per fargli scongiuri sulla finale di Coppa Italia, ma soprattutto per festeggiare quello che dovrà essere un nuovo capitolo della Juventus, dato che questa stagione sportiva andrà a concludere il ciclo di Massimiliano Allegri e bisogna guardare al futuro con sano ottimismo. Tutto nelle mani di Giuntoli, anche se, come vi ho già spiegato a più riprese anche nelle ultime ore, dal punto di vista comunicativo la dirigenza della Juve non mi piace tantissimo in questo momento, perché io capisco le tempistiche e tutto quanto, però questi momenti qui servirebbero, per quanto mi riguarda, mia lettura, mia opinione personale, anche un po' un colpo al cerchio uno alla botte, cercando di tranquillizzare i tifosi che in questo momento sono tanto preoccupati. Io sono abbastanza tranquillo, perché so benissimo a quello che andremo incontro, ho già parlato di spifferi, tra mercoledì e giovedì dovremo avere queste ufficialità, addirittura alcuni dicono dopo Monza, vediamo, vediamo, un po' di spifferi fanno riferimento a una finestra temporale un po' più immediata. Quindi tra l'inizio della finale di Coppa Italia e molto più probabilmente sulla fine, magari nella notte della finale di Coppa Italia, magari subito dopo al mattino, non lo so. Vedremo, vedremo, ma sono gli ultimi momenti. Intanto, lato finale di Coppa Italia, Miretti davanti alla difesa è il principale sostituto per prendere il posto di Locatelli, che è squalificato. Niente, Nicolussi Caviglia dovrebbe andare Miretti in quella posizione, che è un po' la posizione in cui abbiamo visto Miretti per le prime volte come giocatore della Juventus prima squadra. Non mi era nemmeno dispiaciuto tantissimo, è ovvio che parlavamo di partite sul termine di un'annata, quindi partite che potevano contare molto meno. In questo momento, invece, è una partita che conta tanto. Allegri non si fida di Nicolussi, vuole mettere titolare quello che è stato, secondo me, il vero grande giocatore di Massimiliano Allegri legato al settore giovanile di questi tre anni, perché Miretti è il giocatore sul quale Allegri ha riposto un po' più speranze. Sugli altri, su Willing ci ha creduto poco, su Suley ci ha creduto poco, su Isen non ci ha creduto, su lo stesso Hildiz diciamo che non siamo proprio a dei livelli altissimi di credito, anche se sembrava qualcosina di più. All'inizio su Fagioli è stato un percorso tormentato, dove poi Fagioli era diventato un titolare, e lo aspettiamo perché il 20 contro il Bologna, la prossima partita di Serie A, Fagioli sarà a disposizione della Juve, e quindi manca soltanto la finale di Coppa Italia da scontare, poi Fagioli torna a disposizione, Miretti è un po' la creatura di Allegri da quel punto di vista. E proprio di Hildiz dobbiamo monitorare le condizioni, perché oggi non si è allenato completamente, prevede quella botta alla spalla rimediata ieri in partita, ve lo ricorderete, in mezzo a due uomini, tre uomini, Hildiz era caduto male. Attenzione, vediamo questa spalla, se ci farà arrabbiare oppure no. E Danilo e Alexandro hanno lavorato parzialmente, quindi non completamente in gruppo, non un allenamento completo, bisogna ancora capire le loro condizioni. Ad Alexandro mancano due presenze per superare Nedved, una per pareggiarlo, un'altra per superarlo, mancano tre partite, quindi potrebbe eventualmente saltarne solo una. Mettiamo anche da questo punto di vista dove andiamo a parare, perché questa è un'altra tematica che ci stiamo portando dietro e lo sappiamo benissimo. Nei commenti ho letto una domanda molto interessante, e quindi piuttosto che rispondere nei commenti ho preferito parlarne all'interno di un video, ed è stata la seguente. Se la Juventus avesse fatto il percorso che ha fatto quest'anno, ma al contrario, quindi molto male la prima parte e molto bene quella finale, avresti comunque lo stesso pensiero nei confronti di Allegri? Domanda interessante, domanda diversa dal solito, domanda in cui voglio prendermi qualche minuto per rispondere. La risposta è sì, perché ricorderete anche quando la Juventus era al primo posto in classifica o comunque veramente a un paio di punti dall'Inter, io vi dicevo ragazzi anche in caso di vittoria dello Scudetto, Allegri non lo confermerei e non lo rinnoverei, perché quello che stiamo vedendo non è una costruzione di una base solida. Cioè le vittorie che faceva la Juventus nella prima parte di stagione, ce lo siamo detti mille volte, erano vittorie di cuore, di grinta, di quel qualcosa in più, di veramente un gruppo coeso, unito, che andava in un'unica direzione. Si stava bene, si stava tutti bene, si ragionava bene, si respirava bene quell'aria lì e allora si dava quel qualcosa in più. C'era stato un home in performing della difesa e la Juventus comunque cercava tramite questo gruppo granitico di trascinarsi verso dei risultati che stavano arrivando con continuità. Già lì ci parlavamo e ci dicevamo ragazzi ok va bene, bellissimo che siamo lì, ma sono destinati a non durare se non si migliorano determinate cose. Quindi no, non avrei cambiato di un millimetro se i presupposti, se ci ritrovavamo comunque a commentare gli stessi episodi, le stesse partite, le stesse prestazioni, lo stesso modo di ottenere punti. Ecco, questo è il punto vocale del discorso. Vi dicevo anche se dovessimo vincere lo Scudetto quest'anno, portando avanti 38 giornate di campionato come la prima parte di stagione, ma poi l'anno prossimo a cosa ci attacchiamo per ripartire? Perché sono tutte vittorie, non dico fini a se stesse, ma lo diventano all'interno di una stagione, io utilizzavo questo termine, una stagione usa e getta. Quelle basi che pianti oggi non vanno bene per il domani e questa cosa è venuta fuori all'interno della stessa stagione, nella seconda parte, si è trasformata in 15 punti, in 15 partite, che dal punto di vista logico e razionale io tante volte mi sono trovato a dire che questa roba non ha senso, ma se ci pensiamo, facciamo un'analisi un po' più ampia, oggettivamente ha molto senso, perché gli stessi punti che ha fatto la Juventus nelle giornate d'andata erano punti strani, così come lo sono stati quelli del ritorno. Sono stati un grande alto e un grande basso accomunati da una stessa cosa. Subito tutti andavano in quella direzione che ci credevano e poi tutti avevano mollato. Quella è stata la grande differenza. La stagione della Juventus era basata unicamente su sta roba qui, ed è un grande peccato perché invece la Juventus in questa stagione senza coppe doveva puntare un altro obiettivo, e cioè mettere tanta intensità all'interno delle partite perché c'era a preparare soltanto una partita a settimana e si poteva riposare, si poteva recuperare energie per gestirsi al meglio, poi ritornare al 110% dal punto di vista fisico nella partita successiva. La parola chiave di quest'annata doveva essere intensità. Invece è stata continuità. Continuità di rendimento buono dal punto di vista dei risultati nella prima parte e continuità di rendimento pessimo dal punto di vista dei risultati nella seconda parte. Tante volte invece le prestazioni sono state sulla stessa linea d'onda. Però no, non sarebbe cambiato nulla, anche perché tante volte ce lo dimentichiamo ma siamo al terzo anno di una guida tecnica. Quindi qualcosa in più per forza di cose deve vedersi. Non si vede la mano di Allegri nella Juventus. Anzi, a volte si vede fin troppo. In realtà una Juventus è una squadra bassa, passiva, che non riesce a cambiare marcia, che non ha idea di cosa fare quando ha il pallone tra i piedi. Quindi a seconda di come la guardiamo o non c'è la mano o c'è una mano eccessiva. È una squadra riconoscibile da quel punto di vista. Mi dispiace tanto perché mi sono tornate in mente le parole di Allegri nella prima conferenza stampa del suo ritorno, dell'Allegri Bis. E c'era una domanda che mi frullava in testa, continuavo a farmela. Ed era la seguente, ma perché è tornato Allegri? Lasciando stare la risposta canonica, classica, i soldi. D'accordo, sì, indubbiamente. Però ci rendiamo conto di quello che era Allegri nell'immaginario collettivo e tante volte anch'io sono andato a sopravvalutare delle caratteristiche di Allegri e me ne rendo conto assolutamente. Questo ciclo bis è stato essenziale per me per capire tante cose che probabilmente non avevo capito dell'Allegri 1.0. Per quanto per me quel ciclo sia stato meraviglioso, in tante cose io Allegri l'avevo sopravvalutato e questo secondo ciclo me l'ha fatto capire. Benissimo così. È una cosa che a me serviva, non mi servivano tre anni dato che comunque l'idea del cambio in panchina è viva in me da ottobre del 2022, però è stato comunque tra virgolette un male necessario per anche imparare. E io credo che sia sempre necessario imparare i propri errori per cercare di migliorarsi. Però mi domandavo ma perché? Cioè Allegri aveva lasciato da eroe, immortale, da quello che aveva vinto tanto, quasi tutto ed era riuscito anche ad arrivare, a giocarsi quasi tutto e torna con una squadra che era diversa da quelle che aveva prima. E Allegri aveva dato una risposta che era stata strana e cioè è un gruppo di giocatori nuovi, sembrava quasi volesse prasmarli lui. Ed è questa la grande sconfitta del ciclo di Allegri 2.0. Che invece quei giocatori nuovi è, poi sono diventati un alibi dell'assenza di esperienza, dell'assenza di giocatori come li voleva lui, di giocatori pensanti, non si è mai adeguato Allegri alla squadra. Si è semplicemente arreso di fronte a dei preconciati, dei paletti che ha lui nel suo modo di intendere il calcio, il suo modo di pensare, probabilmente anche il suo modo di vivere. È così e ho ragione io. Non c'è modo di migliorare, non c'è modo di lavorare con questi. Guarda quegli altri hanno di meglio, guarda io ho di peggio. Questo è stato il vero grande problema, il vero grande limite dell'Allegri 2.0. E quindi no. Anche con i gironi invertiti, quindi il girone d'andata disastroso, il girone di ritorno con dei risultati che ti piazzavano in un'ipotetica classifica solo di ritorno al primo o al secondo posto, no. Non sarebbe stato differente. Perché l'approccio alle partite, il modo in cui arrivavano i punti, e lo dicevamo anche prima, era un modo usa e getta. E al terzo anno di guida tecnica questa roba non è possibile. Manca poco, manca poco e la Juventus annuncerà il cambio in panchina, ma domani dobbiamo festeggiare i dieci anni del canale YouTube e iniziare a prepararci poi alla conferenza stampa domani sera che ci porterà a giocarci un'altra finale. L'ultimo e unico modo che ha di Allegri conquistare un trofeo all'interno del suo secondo ciclo. Lui che del risultatismo aveva fatto veramente la fortuna della sua carriera, il pragmatismo, il portare risultati, il vincere una importante unica cosa che conta, è che oggi si ritrova completamente nudo di fronte a un Gasperini che invece ha sempre guardato il percorso nel trofeo e oggi invece ci si ritrova nella situazione in cui il favorito è Gasperini con l'Atalanta piuttosto che Allegri con la Juventus. Il mondo si è rovesciato ma il lavoro ha parlato chiaro e oggi è veramente complicato immaginarsi una Juve campione d'Italia, campione della Coppa Italia, diamoci piano, campione della Coppa Italia. Poi una finale secca e può succedere di tutto, però credo che sarà molto molto dura e che mercoledì sera ci sarà da soffrire e anche tanto. Ciao a tutti ragazzi e forza Juve!